Buonasera a tutti quanti, questa sera fa un pochettino freddolino, ci sono 15 gradi, 15 gradi, fa un po' freddolino va. Martedì 25 aprile 2023 alle ore 23.40, oggi è la liberazione dell'Italia, l'Italia sarà liberata dei fascisti, qui c'è la storia, ha piovuto, oggi è oggi pomeriggio, è diluviato, però stamattina faceva caldo stamattina, io ero fa frescolino, spero domani che faccio più caldo, facciamo ancora l'aria calda, fa freddo qua e sono anche raffreddato, ci sentiamo domani, vi auguro una buonanotte, vi baci baci baci, ciao ciao.